Presidente Anselmi, prima di tutto una bellissima partita tra due squadre molto forti, il successo finale è solo rimandato, però credo che ci sia comunque un altro passo che è stato compiuto. Sì, un'ottima partita, il Genoa è sicuramente una squadra importante, tante partite in sequenza vinte, quindi sicuramente era uno scontro diretto impegnativo. Ho visto un bel gioco, le ragazze hanno fatto tutto il possibile, sarà rimandata questa situazione anche perché domenica abbiamo su Perugia un campo importante. Una bella partita prima di tutto tra due grandi squadre, l'Arezzo che ha avuto l'occasione per chiuderla e per chiudere anche il campionato, ma è un altro passo verso quell'obiettivo meritato all'ultima curva. Sì, io sono dispiaciuto, ma sono dispiaciuto per loro perché gli sono stato addosso tutta la partita, gli sono stato addosso tutta la settimana, loro lo sanno, in certi momenti mi sopportano più, però quello che faccio lo faccio per loro. Sto lì sempre sul pezzo perché volevo che oggi potessero veramente coronare questo sogno e raggiungere questo obiettivo qui davanti alla gente, davanti ai tifosi, davanti a tutti. Quindi la mia amarezza principalmente al di là della bellissima partita, del grandissimo spettacolo calcistico è perché avrei avuto la gioia che loro oggi potessero veramente festeggiare una grande vittoria e un grande campionato. Però va bene, la squadra ha fatto un'ottima gara, ha sofferto, ha lottato, ha creato le occasioni, abbiamo fatto qualche errore, ma questo fa parte del gioco del calcio.